ALUNNI VERIFICA! DIVIDETE I BANCHI! Dio porco che notizia ma come l'ha messa dentro mio cazzo! No, non ci sto. Mi dispiace, non ci sto. Così non si può giocare. Prenderò provvedimenti assolutamente. SILENZIO! mentre invece la lunna Beatrice ha fatto la forma e persino copiato il suo nome. Io ho studiato tutta la settimana, tutti i giorni, non sono neanche dato gli allenamenti per studiare la sua materia, cioè non mi può mettere nove e mezzo, almeno dieci me lo merito Mi viene da dire Uga Bunga Tonga Banga, tu vieni da scimmia, io no Non bestemmio, guarda E tu so dieci Cosa? Madonna puttana Cosa hai detto? Diocane, 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 diocane Dal preside, subito! Fa culo Dio camoia de dio Ma che problemi hai? Dio porco Dio cane, ma non è possibile AAAAAA Ok, ooo AAAAA Bestemmio, seriamente Possibile, porta Danna la Madonna Fuori Subito, fuori! No, 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 fai mona, metti una roba, tutto, metti Dal preside, subito! Basta, basta! 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 AAAAAA 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 A me pare che sia, vai a far la posta COMANDO IO! Ma vai a fare in culo No AAAAAA 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 Chiamiamo seguito a sua madre Chiamiamo anche suo padre Ma bisogna essere degli stronzi, però, eh Sto chiamando da liceo Lici Le volevo comunicare Che suo figlio stessa E' stato bocciato AAAAAA